Giorgia Meroni Premier, Giorgia Meroni nuovo Presidente del Consiglio Italiano. È stata incaricata a lei, si tratta della prima donna nella storia del nostro paese, l'Italia, a ricevere l'incarico o meglio a diventare la prima donna Presidente del Consiglio. Tanti progetti, tanti compiti ardui da affrontare per il bene del paese, questioni piuttosto fondamentali. Prima fra tutte, l'emergenza collegata all'energia elettrica. Tanti soldi spesi, bollette infinitamente grandi, persone italiane che non riescono a fronteggiare la spesa economica di bollette elevatissime dal punto di vista economico. E poi anche lo snodo, ma il nodo relativo al fisco, alle pensioni. L'accordo trovato in noi per quanto riguarda il gas, per fortuna, grazie a Mario Draghi, che si tradurrà di conseguenza in bollette più basse a livello economico per gli italiani. Ma ovviamente un nuovo approccio alla politica da parte di Giorgia Meroni, che dovrà fare del suo meglio affinché le problematiche vengano ad essere stinte. Bene, vi ringrazio in primis per la visione, in seguiti per l'ascolto di questo video di oggi. Dunque, vi ricordo che il primo compito, il barrio più obiettivo da parte del governo Meroni sarà quello di trovare, fare, creare e realizzare un emendamento al decreto aiutitar, ma il vero e proprio problema scoglio sarà il cosiddetto problema relativo alla manovra economica. Nasdaq e FNPPB, un quadro programmatico, rilanciare il paese a livello economico e soprattutto riuscire a affronteggiare tutte le problematiche e tante che ha l'Italia. Da Radio Italia è tutto, ciao a tutti, buona serata.